Mister, un punto veramente pesante ma ciò che si è visto in maniera nitida, il carattere di questa squadra che ha giocato per tutti e 90 minuti a viso aperto contro una grandissima formazione. Sicuramente penso che la sconfitta sarebbe stata ingiusta per quello che abbiamo prodotto in campo, contro un Giulianova sicuramente di grossa qualità. Abbiamo avuto una grossa personalità considerando anche la giovanità della mia squadra. Si sono impegnati bene in settimana, hanno preparato bene e oggi si è visto in campo. Hanno messo tutti quanti a ardore e penso che anche i cambi che sono entrati hanno fatto la differenza. Quindi è un merito ai ragazzi, stiamo crescendo nonostante la giovanità e speriamo di crescere ancora con umiltà e seguitare sulla nostra strada. Dobbiamo soltanto chiedere scusa ai tifosi, alla società perché dobbiamo portarla a casa a vincere. Anche se dopo dentro la partita possono succedere tante cose però dobbiamo soltanto chiedere scusa, lavorare a testa bassa e pensare alla prossima. Soltanto questo, i ragazzi si impegnano, danno tutto però in questo momento magari non chiudendo la partita pure loro non sono lucidi e tranquilli. Però bisogna lavorare sulla personalità, sui principi. Non c'è niente da dire, chiedere scusa perché non possiamo pareggiare queste partite, dobbiamo migliorare su tante cose e dobbiamo farle nel mio tempo possibile perché il tempo ce n'è poco.